Teenage dreams in a teenage circus Running around like a cloud on purpose Who is a damn about the family you come from No giving up Bellissima a tutti vaga, oggi siamo su Scribblots Unlimited La nostra storia comincia con Nonno Edgar e nonna Julie Incredibile ma vero Se volete guardare il filmato intero Perché io voglio vedere il filmato in questo gioco Mi annoierebbe sicuro Ve lo lascerò in descrizione come faccio sempre Vabbè Bella grafica in questo gioco Anche io non parlo delle grafici e del suo diacro Questo è un commentary Clicca Edwin Guardare le vostre hate aiutando Edwin con il suo blu impreviato maiale Inizia a trovare sicurta No 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 Non Non No No Non Non 2 ore 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 6 7 8 9 10 12 15 15 15 15 16 19 19 20 20 20 questo è Scribblout's GoTalent ali enormi, devo pagare enorme enorme ali, ma che cavolo scrive? oh, vedete, vuoi Scribblout's GoTalent cavolo bla 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 puto giùaprès Cosa? Mmm Aha Ok Chibiche 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 e vai totale starlight 1 1, 2, 3 e basta a 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 cosa salto questa parte e ci vediamo nella prossima del prossimo pezzo non lo faccio fare adesso ok allora aspettate pompiere ok questa ma perché non lo posso lo posso favorirlo te ma quel cacchio sale è il viagolio c'era ti raccordo che non ha fatto niente ti raccordo e ti dò sta ragazzina bocci beh che mi ha detto a ok già abbiamo fatto e non è successo niente livello completato che livello era? a prendere le basi è stato il primo passo per salvare lì ok io vi faccio vedere quella cosa che volevo fare prima e ci vediamo appena finito ok raga mi sono preso questi video per fare quest'avatar ve lo faccio vedere col cerchio non aspettate che che è che è potete ah ok ah lo posso ok lancio il cerchio e praticamente io vi sarei preso questi due minuti appunto per fare qualcosa strano adesso dovete guardare il mio avatar che io e in e e e e affatto non vi state sbagliando voglio vedere ma su è invisibile io ci metto questi occhi così adesso vi ha il nuovo disegno vabbè andiamo, facciamo storie ok questo dovrebbe essere la ricorda il nome perciò lo vedo vedrò il nome di questo mondo come si chiama sto mondo aspettare? capitale, ok, priod e capitale allora io prima vi ho fatto tipo una specie di esempio che potrei fare quello che vi pare e io infatti vi do un esempio, strano però banana, blu, puzzolente alata verde chiara no, verde scura scura scura, ah ok scura e e veloce cavall 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 ma che cavall ma che cavall e a che cavall Che è il primo episodio Ed è stato veramente strano Io ho fatto Io rimango senza parole E come Vabbè ve lo dirò lui E che posso chiudere qui Questo come primo episodio tra filmato e tutorial Era un po' diciamo per imparare Per capire come si gioca Penso che abbiate capito E dal prossimo inizieranno veramente Le cose più assurde Sono sicuro di questo Ricordatevi di lasciarmi un commento su una cosa che volete Che io materializzi nel prossimo episodio E le più divertenti magari le farò Come al solito se il video vi è piaciuto Lasciate un commento e un mi piace Anche la pagina di facebook che trovate come al solito Nella descrizione di ogni mio video Se non siete iscritti iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi